è complicata perché per il valore dell'avversario per la qualità che ha dimostrato nelle prime sette gare non ultima quella contro contro l'alessandria ma è complicata per questo per il resto non è che sia tanto tanto più complicata delle altre gare perché comunque noi cercheremo sempre di fare la partita per provare a vincerla perché credo che le squadre che vogliono fare un percorso importante lo debbano avere come mentalità e se dovesse arrivare il pareggio anche difendendoci per 80 minuti nella nostra metà campo sarà perché non saremmo riusciti a fare di meglio non per nostra volontà però fondamentalmente complicata credo per il grande valore che ha la rosa della cremonese il grande valore che ha lo staff tecnico della cremonese in uno stadio importante con una proprietà di assoluto rilievo sì io ho scelto non te lo dico però però ho scelto luca è a disposizione partirà titolare dal primo minuto è stato un po il dubbio che ho avuto insomma fino fino a venerdì fino a venerdì fino a ieri sera poi chiaramente poi devo prendere devo prendere una decisione io ho già deciso ma comunque qualsiasi decisione prenderò mi lascia con la serenità di avere di avere la qualità negli interpreti e la predisposizione al lavoro per la squadra negli interpreti giusta per poter andare a cremona e comunque andarsela giocare non ti devi adeguare al ritmo loro una squadra importante una squadra che ha letture anche in campo importanti anche fisicità però se se ti adegui al ritmo loro sei sei penalizzato li devi non li devi far giocare devi cercare di andare a dare ritmo alla partita e per dare ritmo abbiamo bisogno abbiamo bisogno di gamba abbiamo bisogno di di corsa e di massima attenzione però lo dovremo fare non mollando mai di una virgola perché avete visto benissimo che cosa siamo stati in grado di concedere alla propria scienza da un rinvio del portiere e non voglio dare i meriti alla propria scienza perché fu magari accalciato de feo di se la lunga allungato la traiettoria si è trovato mara davanti al portiere quindi hanno avuto un'occasione da gol ma gliel'abbiamo regalata noi e questo contro la cremonese non ce lo possiamo permettere grazie a tutti